Mr. Miledina e Mr. Baldi si sfidano in quella che è la prima gara del girone di ritorno. L'Angelo Bagliardo cerca di dare continuità al suo campionato, il Molassana deve risalire le zone basse della classifica. È il Bagliardo che si rende pericoloso per primo con questa conclusione, para Meneghello. In corsione sulla destra del Bagliardo, Briozzo raccoglie un ottimo cross ma spara alto. Ancora ottima giocata dei nero-verdi sulla destra, Provenzano però è sfortunato e non c'entra la porta. Occasione clamorosa al 37esimo per il Molassana che sfrutta la grande questo contropiede, l'opergolo però non riesce ad affondare grazie anche ad un ottimo Biggi. Nel secondo tempo è subito Bagliardo, incerti semina il panico sulla sinistra e calcia in porta, Meneghello attento. Al 23esimo occasione clamorosa per Provenzano che però c'entra il palo. Al 27esimo incerti a tu per tu con il portiere ma Meneghello chiude la saracinesca. Episodio chiave al 32esimo, il Bagliardo sbaglia un disimpegno. Ottima combinazione del Molassana che recupera il pallone e Giacopetti tra figge Biggi. 1-0 Molassana, esultanza sfrenata di Giacopetti. Rivediamo il replay, freddissimo qui il numero 18. Poco dopo, brutto episodio a centrocampo, Martin Virgilio è costretto a tirare fuori il cartellino rosso da entrambi i lati, Molassana e Bagliardo rimangono dunque in 10. Giacopetti strattona una maglia a centrocampo e rimedia il secondo giallo, dunque Molassana in 9. Triplice fischio, il Molassana vince 1-0, successo preziosissimo per risalire la classifica.